E dalla riforma della sanità in Lombardia nascerà anche il Maxi Ospedale del Bambino. Resta fuori però al Policlinico Critici, i medici di Mangiagalli e De Marchi. La fusione che porterà al Maxi Ospedale del Bambino, vista da qui, che senso ha? Buon lavoro. Il senso nostro è che noi dobbiamo continuare a lavorare come abbiamo fatto fino a oggi, continuando a offrire il meglio. L'avevano messo nero su bianco in una lettera ai vertici del Pirellone. Inimmaginabile creare un polo per il bambino che non includa le nostre eccellenze. L'appello dei primari pediatrici del Policlinico però è caduto nel vuoto. Con la riforma della sanità la politica ha deciso altrimenti. Dentro Buzzi, Sacco, Macedonio Melloni e Fatebene Fratelli. Una maxifusione che ha sanato le divisioni del centrodestra. L'ospedale Maggiore, con Mangiagalli e De Marchi, resta fuori. Mangiagalli ancora oggi è la Culla di Milano, la De Marchi è la pediatria di Milano e la chirurgia pediatrica del Policlinico è tra le chirurgie pediatriche più importanti d'Italia. Il polo del bambino, ribadiscono i primari, a Milano c'è già dalla terapia intensiva neonatale con 900 ricoveri all'anno al centro per le malattie rare della De Marchi. La loro speranza è che in via Sforza finalmente si avviva la costruzione del nuovo monoblocco che unirà anche fisicamente i reparti nel polo materno infantile. Di concorrenza con l'ospedale del bambino creato dalla riforma sanitaria, però al Policlinico non vogliono sentir parlare. Perché noi non stiamo facendo una gara con nessuno, non stiamo producendo redditi, dobbiamo solo produrre salute. Chi invece dice di sperare in una competizione fruttuosa tra i due poli è leghista Rizzi, estensore della riforma. Non è stato uno sgaro al Policlinico di cui nessuno nega l'eccellenza, afferma. Il Consiglio regionale ha scelto di intervenire su altre situazioni che necessitavano di essere valorizzate.